Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui con uno squad builder devastante Una squadra, una ibrida BSG, quindi bronze, silver and gold Quindi giocatori bronzo, argento e oro in un 4-2-2-2 assurdo Adesso ve ne parlo subito Ho usato questo modulo perché secondo me è molto buono per le ibride E soprattutto come modulo a me piace E quindi ho usato questo L'ibrida contiene giocatori brasiliani Giocatori della Korean League e Bundesliga Assurdo davvero Cominciamo subito con il portiere senza perderci in chiacchiere Il portiere Adler come sempre, forse il miglior portiere dopo Neuer Della Bundesliga mi trovo alla grande La squadra non so quanto l'ho pagata sinceramente Però comunque sia è abbordabilissima I giocatori costano poco tranne uno Uno costa un pochino di più Dopo vedrete Adler comunque è molto molto forte Terzino destro abbiamo Devo andare qui sugli argento Fagner Fagner non lo so come si pronuncia in portoghese, brasiliano È un signor terzino, è velocissimo, recupera tutto L'unico problema è il colpo di testa E però vabbè comunque compensa tutto con la sua ottima fase difensiva e la sua velocità Ha anche un ottimo passaggio 7000 crediti per acquistarlo Perché sta veramente a tanto Però li vale tranquillamente Andiamo sulla difesa Abbiamo un cardine proprio Dante è veramente un colosso in questa squadra E mi sto trovando veramente bene in tutte le partite che sto facendo Cioè in tutte le squadre che sto facendo ultimamente con Dante mi sto trovando alla grande È forse uno dei migliori giocatori del gioco a dirla tutta Ha fatto anche due assist in questa squadra Perché lui batteva i calci d'angolo Non so perché era predefinito che lui battesse i calci d'angolo E li batte anche bene tra l'altro Andiamo col difensore centrale di sinistra E abbiamo il coreano Se lo trova Qua Ho Hong Yong Ho Grandissimo difensore Tra l'altro tutti i coreani O quasi tutti In questa squadra Hanno i capelli arancioni in game Quindi è una figata assurda Pagato 6.000 credit Li vale tutti Perché è un ottimo giocatore Velocissimo Recupera tutti 71 di difesa Con infaticabile Aumenta la 74 80 di colpo di testa Le prende tutte È veramente fortissimo Terzino sinistro Abbiamo Un altro coreano Park Del Mainz Anche lui ottimo Ottimo terzino Dimostra molta più velocità rispetto a 84 Secondo me Ha un ottimo passaggio Pure in difesa è forte Pagato 1.000 crediti Ve lo straconsiglio Perché è veramente ottimo E tra l'altro Ha worker di difesa alto Quindi è un difensore aggiunto In pratica E l'unico problema Sono le due stelle piede debole Andiamo con il centrocampo Molto molto roccioso Dove a destra Troviamo Luis Gustavo Che è appunto Una roccia Che è abbastanza veloce Ha un ottimo passaggio Molto forte in difesa Di colpo di testa Per un prezzo Veramente molto basso Vi assicura Grandissime prestazioni In tipo 6 partite Ha fatto Un gol Mi ha fatto E due assist Andiamo con il Cdc Invece di sinistra Che è un coreano A bronzo Il primo bronzo Si tratta di Choi Yun Tae Choi Yun Tae Ottimo Ottimo giocatore Una velocità Che potrebbe migliorare Però Ha un tiro Che è qualcosa Di eccezionale 69 di tiro Per un bronzo È come 90 Per un oro O giù di lì Un tiro Assurdo Veramente Un tiro fantastico Infatti mi ha fatto Anche un gol Per un cdc Non è poco 66 di passaggio Anche esso È un'ottimissima stat Come del resto 64 di difesa 68 di colpo di testa Sono ottimissime Quindi è un giocatore Che per 650 crediti Che l'ho pagato È assurdo Andiamo con La pecca Della squadra Cioè L'unico giocatore Con cui non mi sono trovato bene Perché io non sono uno skiller Si tratta di Wallison Io l'ho voluto mettere Così per skillare un po' Però io non sono capace Quindi È un po' Difficile per me Poi ha 71 di dribbling È pochissimo Per uno Che ha 5 stelle abilità Comunque se voi siete skiller E sapete skillare bene Comunque sia Velo Cioè Mettetelo perché Poi Boh Ci sta Wallison Mi ha fatto 0 gol E 0 assist Perché proprio Non lo so usare Quindi Magari con Jobson O comunque Sì altri Giocatori O anche Magari qualcuno Con una forza fisica migliore Sì appunto Tipo Jobson È molto meglio E in ogni caso È molto agile Come giocatore Non ha anche un tiro Pessimo Però purtroppo Essendo a destra Quando rientra di sinistra Non ha un tiro eccellente Di sinistro Quindi Ho un po' fatica Però vabbè 5 stelle abilità Poi La dicono tutto al prezzo Secondo me È abbastanza esagerato Però vabbè Andiamo con il C.O.C. Di sinistra Che è un coreano Argento E mamma mia Quanto è forte No Byung-Yoon Si chiama No Byung-Yoon Sì Assurdo 6 partite 2 gol 5 stelle Piede debole Quando tira Sembra che c'ha un cannone E tra l'altro Ha i capelli un po' castano Chiaro Quindi sembrano anche lui Un po' arancioni Sembrano Tanta roba 950 credits Sono uno scherzo Per un giocatore Del genere Veramente consigliatissimo Qua è velocissimo Andiamo con la coppia d'attacco Che è una coppia Formidabile Il primo è Wee Wee Non ve lo dico È un bronzo Della Corean League Wesley Se non l'avete provato Fatelo Perché è assurdo Questo giocatore Ha una velocità Incredibile Fortissimo di testa Forza fisica Della Madonna E ha un tiro Che è qualcosa di devastante Purtroppo Ha solo 2 stelle Piede debole Quindi solo di destro Potete tirare Però quando tira Fa dei gol Assurdi Cioè potentissimi E dopo li vedrete Appunto nelle clip Pagato 1700 crediti È bassissimo A mio avviso Come prezzo Per un giocatore Del genere E invece andiamo Con l'ultimo attaccante È un argento Sempre della K League E si tratta di E si tratta di Questa bestia Mi ha segnato Ha segnato la partita Quando il mio avversario Si è disconnesso Quando fanno vedere La squadra avversaria Prima di giocare Non so come abbia fatto Forse ha spento Da play Quindi 2 le dovete togliere In pratica Le partite giocate Perché non contano 1300 crediti Sono pochissimo Per un giocatore Della Madonna Assurdo Questo giocatore Provatelo Se non l'avete mai fatto Perché è una bestia Una bestia Con la B maiuscola Una squadra che Ha battuto Cioè non ho mai perso Con questa squadra Tutte le partite Che ho giocato È fortissima In contropiede A costruire È fortissima È fortissima E battete tranquillamente Le squadre da 5 stelle E potete giocare Tranquillamente In divisione A mio avviso Perché è veramente Letale Questa squadra Subisce anche poco Del resto Perché ha un ottimo portiere E un'ottima difesa Dante è veramente Fortissimo Quindi ragazzi Se avete i crediti Per farla Tipo 50.000 Anche di meno Forse Non mi ricordo Fatela Perché è devastante Ragazzi La squad builder Finisce qui Io come al solito Vi invito a lasciare Un bel mi piace Perché nelle squad builder Noto sempre Che ci sono molti Meno mi piace Rispetto agli altri video Quindi vi invito Per piacere A lasciare un bel mi piace A 300 mi piace Uscirà un nuovo video Vi invito a lasciare un commento Scrivendomi qualche squadra Che mi consigliate Oppure anche qualche giocatore Che secondo voi Veramente vale la pena Di provare E io lo proverò E ovviamente Iscrivetevi al canale Alla mia pagina facebook Link in descrizione Anche alla pagina Di food italia E a instagram Il mio instagram Link li trovate sempre In descrizione Noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Sous-titrage ST' 501